20 non vaccinati ribelli pronti per l'esecuzione Riposo! Riposo! O vaccino o morte, colonel dia l'ordine Mancano due minuti Da fare ancora 155 dosi E chi se ne frega! Che pazzo! Sì! Dobbiamo uccidere i ribelli con fuzileria e colpire gli Arinovacs di sorpresa Ma sì? Ma io non ne faccio di queste belle sorprese Io sono un soldato, non sono un assassino I suoi soldati sono come mosche contagiosi E io sono proprio vaccinato di gang, Reich Siete come mosche? E io non ammazzo nemmeno le mosche E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò Né ora, né mai! Patate, colonel Io ho il suo grip E se si pulisca il culo! E ai io sono un atto Ancestate! Si pulisca il culo! André! E ai là di quanti? Ancestate! Grazie a tutti.